quali vantaggi offre il fusion 1 rispetto ai sistemi tradizionali come vedrai il fusion 1 offre numerosi vantaggi rispetto all'approccio tradizionale ma vediamoli insieme primo le gomme lavorano in senso contrario rispetto all'asta riducendo il rinculo anziché aumentarlo ciò si traduce in una significativa diminuzione del rinculo e di conseguenza in una maggiore precisione inoltre tutta l'energia che non viene scaricata sul polso viene invece aggiunta all'asta contribuendo ad un aumento della potenza secondo tutti i sistemi roy sub sono pretensionati e conservano molta energia quando la gomma arriva intestata ottenendo una spinta che supera di gran lunga quella dei sistemi tradizionali terzo la spinta delle gomme è perfettamente parallela all'asta garantendo una traiettoria di rinculo lineare senza influire negativamente sulla precisione del tiro anche quando tiri con il braccio piegato quarto la spinta graduale costante dell'asta permette a quest'ultima di raggiungere velocemente una lunga distanza poiché non subisce una violenta contrazione iniziale come invece accade nei sistemi tradizionali dove la spinta della gomma diminuisce rapidamente dopo l'iniziale impulso in conclusione i quattro grandi vantaggi uniti insieme creano un tiro preciso potente versatile come solo i sistemi roy sub sanno garantire guarda tu stesso questi tiri le immagini parlano da sole che non Grazie a tutti.